Calcio sporco, il destino della Teramo Calcio Calcio si deciderà dovredì pomeriggio a Roma Scuola, a rischio per 60 bimbi il ritorno all'asilo, la regione non ha rifinanziato la legge Cantieri, sono cominciati stamattina i lavori per la Rotonda di Fonte Regina La Sagra, a Campli con Mercuri, trionfa la porchetta di Colledara Sport Calcio, il Teramo torna ad allenarsi domani In Comune Campana riunisce i tifosi per studiare iniziative Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con informazioni di Teleponte in questa prima edizione del Tg Primo Piano Si parla ancora di calcio sporco e del destino del Teramo Calcio Il processo di secondo grado di innalsi alla Corte d'Appello federale contro la sentenza che ha condannato in primo grado i Biancorossi all'erdocessione in serie D sarà discusso giovedì 27 agosto alle ore 14 a Roma In quel pomeriggio i giudici di Appello, 5 dei 10 componenti presenti più il presidente Gerardo Mastrandrea valuteranno il fascicolo sulla base degli atti depositati dai rispettivi legali delle parti e poi decideranno E' molto probabile che la sentenza esecutiva sarà pubblicata al massimo venerdì mattina tra le ipotesi sul tavolo per il destino del Teramo Due sono tecniche La prima, conferma della retrocessione in serie D e attenuazione delle condanne pecuniaria e personale a carico della società e del presidente Luciano Campitelli quindi con condanna per responsabilità oggettiva e diretta La seconda, esclusione della responsabilità diretta del presidente Campitelli e condanna per la responsabilità oggettiva da 1 a massimo 5 punti di penalizzazione in serie B C'è però anche una terza ipotesi, meno probabile ma possibile che per così dire è politica penalizzazione per la sola responsabilità oggettiva ma con afflizione nel vecchio campionato di Lega Pro se fossero meno di 5 punti il Teramo resterebbe in serie B in caso contrario sarebbe condannato alla Lega Pro perché è scavalcato dall'Ascoli che meriterebbe quindi a tavolino la promozione in serie B Sono ore concitate di attesa anche in comune Il sindaco ha parlato ancora una volta questa mattina di questa situazione Ascoltiamo Giovedì alle 14 ci sarà il processo in appello per il Teramo Calcio Lei è fiducioso sindaco? Sì sembrerebbe che la data è giovedì alle ore 14 Io sono fiducioso Sono fiducioso perché anche da non addettore ai lavori quindi non sono un avvocato però mi sono letto le carte e oggettivamente dalla lettura delle carte anche da una premessa che gli stessi giudici scrivono insomma sembrerebbe così dicono anche loro che Campitelli non c'entri niente in questo discorso e quindi l'obiettivo credo che sia questo perché poi sul resto mi sembra evidente insomma quello che è accaduto però mi sembra importante diciamo come dire estrapolare da questa situazione il presidente Campitelli questo ci toglierebbe la diretta e significherebbe serie B Serie B o serie D e le vie di mezzo forse non ci sono? I tecnici dicono che le vie di mezzo non ci sono anche se se ne sta parlando in questi giorni tra le ipotesi per un discorso di regolamenti e di conteggi dei punti di penalizzazione insomma io non sono un esperto in materia però voglio dire serie D segnerebbe davvero la fine del calcio a Teramo o comunque un rischio che noi non vogliamo correre siamo fiduciosi nella serie B io ho parlato anche con il presidente Abodi qualche giorno fa perché si vociferava ed era scritto anche sulla stampa nazionale che avrebbero messo a sorteggio il nome dell'Ascoli cosa assolutamente ingiusta da non fare il presidente mi ha rassicurato e questo mi ha fatto piacere ringrazio il presidente Abodi perché è davvero una persona a modo che questo non avverrà e ho rappresentato al presidente però che dietro una squadra dietro un presidente dietro un allenatore c'è una tifoseria, c'è una città c'è un campionato vinto sul campo e quindi allora di questo che non può essere sicuramente la chiave che apre la porta della serie B però sicuramente deve avere il suo peso il fatto che qui c'è una città di 50 mila abitanti che lavora da anni sette anni sei promozioni per arrivare a questo traguardo dopo 102 anni questo deve avere un suo peso non quello determinante perché poi il peso determinante lo dovranno avere i fatti che se sono quelli che leggiamo nella sentenza mi lasciano molto fiducioso si parla ancora adesso di politica di giunta comunale a Teramo che sta lavorando bene c'è qualche problema soprattutto di comunicazione ma Pescara e Giulianova hanno maggiori problemi di noi è quello che dice l'onorevole del nuovo centrodestra Paolo Tancredi parlando del cosiddetto rimpasto di giunta io mi fido del sindaco dice Tancredi adesso spetta a lui fare una proposta in merito ascoltiamo Onorevole Tancredi ci incontriamo proprio sotto al palazzo di città sotto al comune questo rimpasto si fa o non si fa scende il numero degli assessori cambiano cosa succede? Innanzitutto noi abbiamo fatto un approfondimento di diversi mesi la maggioranza è con il sindaco dovremo tornare ancora a vederci però adesso a questo punto la decisione è rimessa al sindaco di Teramo come ho più volte detto io credo che di problemi ce ne siano ma sono assolutamente amplificati rispetto a quelle che sono invece le reali potenzialità di questa giunta che sta lavorando bene io voglio dire che negli altri comuni a noi se ci confrontiamo con Pescara con Giulianova ci sono problemi critici qui insomma abbiamo appena votato il bilancio 21 voti insomma la maggioranza tiene credo che sia anche facendo bene c'è un problema un po' di comunicazione di mandare all'esterno qualche cosa e poi c'è un problema che dopo tanti anni naturalmente insomma la giunta viene un po' vista come capo espiatorio però io penso che adesso il sindaco debba fare una sintesi già nel bilancio ha messo una riduzione del costo della giunta e quindi deciderà lui come realizzarlo pensare ridurre il numero degli assessori lei dice? questo sul bilancio non c'è scritto lo vedremo ripeto ho fiducia nel sindaco e penso che sia lui a questo punto che deve come ha sempre fatto prendersi la responsabilità di fare una proposta ai partiti che poi insomma ne discuteranno magari si affinerà il problema delle indennità del risparmio dei costi è una cosa importante però qui si è fatto già tanto noi siamo il capoluogo con questa riduzione del 20% che spende meno per le spese della Giunta meno meno per le spese del Consiglio quindi adesso parliamo di scuola anche quest'anno si ripresenta a Teramo il problema degli asili nido non è ancora stata rifinanziata la legge regionale nido anch'io che prevede lo stanziamento in Abruzzo di un milione di euro per gli asili nido sono 60 a Teramo i bambini che rischiano di restare senza questo servizio stamattina l'assessore della pubblica istruzione del comune di Teramo Piero Romanelli ha incontrato il sindaco per affrontare proprio questo problema vediamo ad oggi il comune di Teramo non sa ancora se verrà rifinanziata la legge regionale nido anch'io sugli asili nido e sono 60 i bambini che rischiano di restare senza questo servizio sul territorio comunale sì ma devo dire assolutamente senza polemiche nel senso che questa è una è una legge sacrosanta giusta che va a implementare il numero dei posti nido bambini che riguarda tutti i niti di Abruzzo quindi negli anni passati noi già a giugno sapevamo appunto quanto quanto era il finanziamento e quindi potevamo assumere delle stagiste che peraltro tutto ha anche una grande importanza formativa perché riusciamo a formare delle giovani pedagogiste in questo lavoro detto questo io invito l'assessore Sclocco che l'altro anno fu assolutamente collaborante quindi si prese del tempo ma poi finanziò questa legge quindi ripeto è un danno che fa non solo a noi di Teramo ma a tutti i niti di Abruzzo quindi chiediamo anche al presidente della giunta regionale di finanziare questa legge il prima possibile quanti soldi ci vogliono per finanziare questa legge ma noi la regione Abruzzo credo che il bilancio sia di oltre 2 miliardi di euro l'anno la legge nito anch'io parliamo di qualcosa più di un milione di euro l'anno insomma è una cifra ridicola che peraltro fa benissimo a tutte le famiglie abruzzesi i tempi c'è un limite entro il quale non si può andare per rifinanziare ma no questo no però considerate che noi i nostri niti li riapriamo subito il primo settembre e allora succede che tante famiglie sperano in questo rifinanziamento per appunto collocare il proprio figlio nei vari niti quindi prima viene finanziata e prima risolviamo i problemi di queste famiglie il capogruppo del partito democratico in consiglio comunale a Teramo Gianguido d'Alberto replica al sindaco che aveva dichiarato che la Tari era scesa del 20 25% per i Teramani non è vero sostiene d'Alberto lui dovrebbe pensare al costo dell'intero servizio di raccolta rifiuti troppo elevato e spiegare perché con grave ritardo solo ora bandisce la gara che punta a ridurre proprio tale costo sentiamolo il sindaco Il sindaco Brucchi prendendo spunto dai dati diffusi dalla CGA di Mestre che parlano di un aumento della Tari su scala nazionale dal 25% al 40% ha detto che invece a Teramo negli ultimi anni nell'ultimo anno è scesa del 20-25% è così Alberto secondo voi? No non è così il sindaco Brucchi cita dei dati che non tengono conto di alcune variabili di fatto soprattutto per le utenze domestiche nel corso di questi due anni non c'è stata nessuna effettiva riduzione e i cittadini terramani lo possono percepire direttamente leggendo i dati della bolletta perché l'anno scorso c'era stato semplicemente il meccanismo il passaggio dalla Tares alla Tari che ha comportato inevitabilmente un cambiamento del dato ma la diminuzione della triffa di rifiuti non c'è assolutamente stata per le utenze domestiche soprattutto le famiglie continuano a pagare un costo altissimo e soprattutto un costo altissimo che negli ultimi 5 anni è levitato in modo esponenziale se noi pensiamo che dal prima dell'inizio del portaporto il costo del servizio era di 8 milioni e 4 e in questi anni ha raggiunto superato i 12 milioni di euro e anche quest'anno il sindaco parla di un PEF che è arrivato a 10 milioni e 8,60 ma ci è arrivato semplicemente attraverso un artificio contabile perché ha scorporato alcune quote che invece dovevano essere inserite appunto nel PEF quindi si continua a pagare il costo del servizio a Teramo è di oltre 12 milioni di euro per responsabilità di questa amministrazione queste sono le domande che il sindaco Brucchi dovrebbe porsi anziché citare percentuali e numeri che costituiscono semplicemente una pezza d'appoggio per tirare avanti e per scaricare le proprie responsabilità qui c'è una grave responsabilità da parte dell'amministrazione perché se è vero che oggi il sindaco dice che vuole portare a gara il servizio con grave ritardo perché noi l'abbiamo detto 5 anni fa che doveva essere fatta la gara parlando di un costo del servizio di circa 9 milioni di euro la domanda che il sindaco dovrebbe porsi e che noi ci poniamo e che i cittadini si pongono è perché i cittadini terramani hanno pagato così tanto in questi anni di chi è la responsabilità quali sono le ragioni per cui questa amministrazione non è stata in grado di ridurre i veri costi che sono i costi fissi della gestione della società e della gestione del servizio sono partiti ufficialmente oggi i lavori per la realizzazione della rotonda in via Fonte Regina a Teramo proprio stamattina è stato allestito il cantiere vediamo il servizio da questa mattina è visibile il cantiere per la realizzazione della rotonda in via Fonte Regina a Teramo sì oggi sono iniziati i lavori veri e propri della rotonda nei giorni scorsi abbiamo dovuto risolvere alcuni problemi per quanto riguarda i sottoservizi dell'Enel e della Telecom oggi iniziano i lavori diciamo proprio specifici per la realizzazione della rotonda che comporterà in questa prima fase la realizzazione di tutta la palificata a ridosso della scuola ad Alessandro dunque prima della riapertura della scuola i lavori strutturali saranno completati e poi inizieremo valuteremo un attimino insieme all'impresa i lavori a raso per la realizzazione vera e propria della rotonda dunque durante l'ambito scolastico durante i giorni scolastici dunque quando riaprirà la scuola tanti disagi non ci dovrebbero essere in quella zona diciamo per quanto riguarda i rumori diciamo i lavori che vanno diciamo in corrispondenza con l'attività scolastica non ci dovrebbero essere problemi dobbiamo un attimino valutare i lavori a raso per la realizzazione vera e propria della rotonda se farli notturna oppure in momenti di morbida dove i problemi di traffico saranno minori dunque un attimino valuteremo dopo la realizzazione della rotonda vera e propria vogliamo ricordare i tempi e importo dei lavori l'importo è di 350 mila euro un fondo regionale che l'allora assessore di Dalmazzo insieme al governatore Chiodi ci chiede insieme alle telecamere dunque fa parte di quel filone di finanziamento i lavori devono completare entro 90 giorni dunque entro diciamo ottobre i lavori saranno ottobre novembre i lavori saranno completati parliamo di altri lavori che sono quelli di ristrutturazione del cinema smeraldo che proseguono a gran ritmo il progetto porterà a dotare termo di una nuova multisala con novità importanti che proietteranno questa struttura quale nuovo centro di aggregazione cittadino noi abbiamo ascoltato il progettista per capire a che punto sono i lavori qui stiamo facendo praticamente 7 sale per circa 730 persone in un ambiente che già esisteva che ha dei vincoli fortissimi dato dalla posizione di Teramo dal fatto che le murature in cimento armato che raccolgono la sala non le possiamo toccare quindi dobbiamo ricostruire per motivi sismici all'interno della stessa sala una nuova struttura che reggerà le nuove praticamente gradonate della sala una sala che avrà la possibilità di essere affittata in toto per circa 35 persone poi faremo una sala che avrà invece che delle solide poltrone avrà dei divanetti a due posti è qualcosa di diverso perché crediamo che fare una sala che abbia delle valenze un po' tra virgolette casalinghe dia la possibilità alla gente di venire al cinema molto più piacevolmente e inoltre soprattutto per le prime file monteremo delle chasse long cioè lo spettatore sarà sdraiato poi ci sarà una zona praticamente bancone bar che vuole essere un servizio più completo diciamo per il solito diciamo cinema che non è la solita vendita di popcorn o cose di questo genere e delle aree esterne adibite diciamo alla sosta quindi ci sarà una sorta di arredo pensato proprio per l'attesa e quindi dare al cinema una sorta di accoglienza che forse prima non aveva e che molti cinema secondo me tutt'oggi non hanno prevediamo di cominciare a montare tutti i primi solai per la fine di agosto e cercheremo di aprire questa sala per la metà di novembre diciamo è una corsa che stiamo facendo contro il tempo parliamo adesso di politica regionale il disavanzo della regione Abruzzo accertato al 31 dicembre 2013 di 538 milioni di euro lo rende noto l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci che parla di disavanzo che perviene dal passato desidero precisare ha detto Paolucci che al momento dell'insediamento l'attuale governo regionale ha dapprima dovuto approvare con correzioni il rendiconto 2012 e poi concludere riaccertamento dei residui per avere cognizione del disavanzo entro agosto continua Paolucci la regione approverà il rendiconto del 2013 per poi procedere al riaccertamento residui 2014 e cercare di riallineare rapidamente i documenti contabili ricordiamo che proprio i ritardi nell'approvazione di alcuni rendiconti sono stati alla base del duro richiamo della Corte dei Conti alla regione Abruzzo è stato pubblicato sul sito della provincia di Teramo il bando per la costruzione del nuovo ponte a Castelnuovo Mano più a valle di quello esistente tra i comuni di Castellalto e Celino a Tanasio l'importo complessivo dell'intervento finanziato con fondi della regione Abruzzo è stato calcolato in quasi 4 milioni di euro di cui 3,5 per lavori soggetti a ribasso 187 mila euro per oneri per la sicurezza e 238 mila per la progettazione definitiva esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato nel bando in un anno a Giuliano va adesso perché come è disposto dal sindaco Francesco Mastromauro gli uffici comunali competenti stanno effettuando le verifiche delle bollette tari al fine di individuare eventuali anomalie si tratta di un carico di lavoro notevole dichiara l'assessore al bilancio Katia Verdecchia perché l'esame è analitico e riguarda ogni singola utenza insomma il personale sta esaminando le bollette ad una ad una e sono stati riscontrati in effetti alcuni problemi tecnici dice l'assessore in corso di soluzione coerentemente all'impegno assunto Antonello Persico e gli Arbor da anni suonano e interpretano le canzoni di Fabrizio De Andrè nelle piazze e i teatri d'Abruzzo e di altre regioni raccolgono fondi per realizzare i progetti di Amico associazione per le malformazioni infantili chirurgiche Ollus il concerto di Silvi Marina in piazza dei Pini ha avuto una dedica particolare per l'amico Alessandro Di Pietro il servizio Un bel pubblico in piazza dei Pini a Silvi Marina per un gran bel concerto a suonare sono Antonello Persico e gli Arbor per Amico associazione malformazioni infantili chirurgiche Ollus come fanno ormai da 15 anni e per l'amico collante del gruppo Alessandro Di Pietro presente in piazza e il volontariato che rende possibile l'alchimia tra professione in chirurgia pediatrica e la passione per Faber di Antonello Grazie anche all'apporto dei musicisti che hanno sposato la mia causa e grazie a loro abbiamo realizzato tantissimi progetti unendo appunto questa passione per De Andrè con la beneficenza cadeste a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento e il tempo notte sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato cadeste a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento e la tua vita finiva quel giorno non ci sarebbe stato un ritorno Poi qualcuno mi dice ah ma ci assomiglio no De Andrè era De Andrè la sua voce la sua voce e noi cerchiamo di renderlo il più possibile emozionabile come si può dire e veramente l'apporto dei miei musicisti è molto importante e ogni sera sì noi continuiamo a fare questo sogno perciò poi il pubblico reagisce bene come hai potuto vedere tu questa sera adesso andiamo a Campri dove si è conclusa con successo la 44esima edizione della Sagra della Porchetta Italica con la prima azione finale che si è tenuta ieri sera in piazza Vittorio Emanuele II la Coppa del primo classificato come vedete dalle immagini è andata al porchettaio di Colledara Nicolino Mercuri seguito da Emilio Falasca mentre il terzo premio è stato assegnato a Lucio Di Stefano sempre al maestro porchettaio Emilio Falasca è stato assegnato anche il premio speciale della critica assegnato alla memoria del professor Nicola Biaggio Natali presidente storico della giuria il vincitore è stato scelto tra nove porchettai partecipanti è votato da tre giurie tecniche composte da enologi giornalisti cuochi esperti ed infine da una giuria popolare scelta a sorte tra i vari candidati con ben 100.000 presenze e 300 porchette servite è stata una riconferma per Campli regina delle sagre d'Abruzzo migliaia di persone hanno invaso il centro del paese svuotando i banconi dei porchettai e grande affluenza è stata registrata anche alla Scala Santa e negli altri monumenti rimasti aperti per l'occasione fino a notte fonda la Proloco ricorda che tutte le foto delle serate sono consultabili sulla pagina Facebook il profilo della Proloco di Campri Proloco Città di Campri il 29 agosto in piazza Martiri della Libertà a Teramo si svolgerà la finale di Miss Abruzzo in vista del concorso nazionale Miss Italia alla manifestazione parteciperà anche la regginetta italiana in carica che farà parte della giuria intanto il primo fine settimana di settembre tornerà alla villa comunale la manifestazione Villa Suite seguiamo i dettagli in questo servizio fine estate a Teramo all'insegna della bellezza e della musica con la finale regionale di Miss Abruzzo e con Villa Suite il 29 agosto alle 21 in piazza Martiri della Libertà ci sarà proprio il concorso di bellezza la Villa Suite invece il weekend successivo si Villa Suite il weekend successivo si sabato torna Miss Italia sabato 29 la finale regionale quindi la finalista diciamo la ragazza che vincerà qui a Teramo andrà di diritto a Jesolo sarà una delle finaliste nazionali diciamo del concorso sono felice perché siamo riusciti dopo un paio di anni di stop a riportare Miss Italia a Teramo è una platea che merita il concorso regionale devo ringraziare gli sponsor che ci hanno supportato senza i quali voglio ricordare che i contributi per Miss Italia sono quasi tutti privati c'è solamente il BIM che ci supporta come sempre con un contributo e voglio ringraziare il presidente per gli altri sono tutti sponsor privati alla serata sarà presente Clarissa Marchese che è la Miss Italia in carica sì sì naturalmente in giuria ci sarà Clarissa Marchese che è la Miss Italia in carica che è già stata a Teramo è venuta alla scorsa conferenza stampa stiamo componendo il resto della giuria vorremmo chiaramente una giuria qualificata stiamo pensando al mondo del giornalismo naturalmente ma anche al mondo dei privati dei privati cittadini e poi torna io dico voglio ringraziare scusami prima che me lo dimentico voglio ringraziare per Miss Italia Mimmo Del Moro gli sponsor privati ma soprattutto Guido Campana perché il suo aiuto è stato fondamentale è stato operativo e ha risolto alcune piccole problemi procedurali che senza di lui probabilmente non avremmo risolto poi torna Villa Suite che si terrà alla Villa Comunale sì torna Villa Suite io sono felice perché credo che la Villa sia uno dei luoghi più suggestivi della città soprattutto per organizzare eventi in passato gli eventi fatti alla Villa Comunale hanno sempre avuto successo 4 e 5 settembre Villa Comunale di Teramo adesso vediamo che tempo farà nelle previsioni curate da meteoteramo.it Previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appenninici poco nuvoloso sui settori costieri in serate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale sereno sulle zone adriatiche temperature in aumento massime comprese tra 26 e 29 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 33 e 36 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli o moderati orientali mare poco mosso in provincia di Teramo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appenninici poco nuvoloso sui settori costieri in serate nella notte poco nuvoloso temperature insensibile aumento massime comprese tra 31 e 34 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 30 e 33 gradi sulle coste venti deboli o moderati orientali mare poco mosso a prima questa pagina sportiva con il Teramo calcio perché la squadra di Vivarini dopo i giornali di riposo ieri ed oggi torneranno domani a una nuova settimana di allenamenti in programma raduno Teramano alle 16 e 30 allo stadio Bonolis di Piano Daccio ci sono da valutare ancora le condizioni degli attaccanti d'Agostino e Donnarumma le prese con piccoli problemi muscolari che hanno anche saltato la bichevole contro il grifone Perugia intanto però continua a tenere banco la vicenda extrasportiva i tifosi teramani si stanno organizzando per sostenere il Teramo calcio nel processo d'appello di giovedì 27 agosto il consigliere comunale di maggioranza Guido Campana ha organizzato per domani sera in municipio alle 19 un incontro per stabilire quali iniziative mettere in campo per manifestare la vicinanza dei teramani alla società e alla squadra in un momento così delicato per i colori bianco-rossi dalla presenza massiccia a Roma ad una manifestazione in piazza a Teramo nessuna ipotesi è esclusa vediamo questo servizio promosso da Guido Campana si terrà domani alle 19 in municipio un incontro con i tifosi del Teramo in vista del processo d'appello per la società bianco-rossa sì un annuncio un annuncio che non è politico ma sono come Guido Campana come tifoso voglio fare un incontro nella sala della città del Teramo quindi sala consigliare per definire per vedere cosa fare con tutti i tifosi come organizzarci per far sentire la nostra voce in maniera silenziale ma far capire che Teramo è unita ed è una grande città l'idea qual è? di andare a Roma? di andare a Roma di fare un evento in piazza vedere insieme vogliamo decidere altrimenti sembrerebbe una cosa già pilotata insieme decidere cosa fare se è conveniente ad andare a Roma se vogliamo rimanere in piazza e far sentire il giorno prima appunto il nostro urlo sempre in maniera silenziosa perché è importante è importante che Teramo si faccia sentire come città grande perché appunto lo meritiamo quante persone vi aspettate domani all'incontro? no so io spero tante ma più che altro coloro che hanno assorto il bene nella città di Teramo ripeto non è politico l'incontro al tempo sembrerebbe brutto sembrerebbe una campagna elettorale non è politico perché io sono forse uno dei tifosi appunto che è chiamato interpellato da parecchie per metterci avanti quindi ecco perché qual è l'iniziativa di metterci avanti per unirci e per capire cosa fare dunque l'appuntamento con i tifosi del Teramo è per domani alle 19 in municipio a Teramo sì alle 19 in sala consigliare per decidere tutti insieme cosa fare parliamo adesso di basket con l'occasione della 44esima edizione della saga della porchetta italica partita anche la campagna abbonamenti del campo di basket per il nuovo campionato di serie B con lo slogan il nostro cuore è tornato a battere e il testimone al Davide Pretrucci bandiera bianco rossa i carnet per 12 delle 15 partite del campionato 2015-2016 vengono venduti al prezzo di 25 euro in ridotto e a 50 per quello intero offerta libera a partire da 100 euro per le tessere sostenitore che valgono per tutte e 15 le gare del campionato ai primi 100 sottoscrittori saranno consegnate le magliette celebrative della promozione in serie B con l'arrivo del pivot Gabriele Mirone da vasto la squadra è completo e guardiamo prima uscita stagionale sabato prossimo ad Ortona passiamo adesso alla palla a mano perché l'HC Team Teramo ha reso noto il programma delle amichevoli precampionato di A1 femminile le biancorosse allenate da Serafino Labbrecciosa avranno tre weekend di amichevoli e tornei si comincia sabato 29 agosto a Teramo al Palazzo Nicolò con il quinto torneo Città di Teramo al quale parteciperanno anche Casalgrande Padana e Salerno Teramo impegnato subito alle 17 contro il Casalgrande Padana nel weekend successivo sabato 5 domenica 6 settembre le Teramane saranno di scena a Casalgrande nel 33esimo torneo Ente Fiera a Casalgrande trofeo Certec contro Casalgrande Padana Alimestrino Ariosto Ferrara e Salerno venerdì 11 settembre infine un amichevole di Lusso a Teramo con l'Ariosto Ferrara prima di debuttare in Serie A1 lo ricordiamo sabato 19 settembre al Palazzo San Giacomo in Puglia contro le campionesse d'Italia in carica dell'Indeco Conversano Atletica in chiusura che torna a Silvi con la prima edizione della notturna infrasettimanale gara podistica che mercoledì 26 agosto alle 19.30 vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti con premi per 150 di loro valevole per l'assegnazione del titolo di campione nazionale ASC l'evento nasce sotto una duplice unione sportiva e sociale promossa dalla società pluripremiata dell'Atletica Vomano e del sportello rosa integrato sotto la egida rete della neo federazione sportiva ASC che affonda le proprie radici nel mondo sociale del volontariato a fare da madrina alla manifestazione la silvarola Alessia Beneduce che negli ultimi campionati nazionali di Milano con la distanza di 62 e 24 metri si è laureata campionessa italiana nel lancio del martello la gara bodistica notturna si sviluppa su 10 chilometri con ritrovo nel piazzale del complesso Le Dune in via Leonardo Da Vinci alle ore 17 e 30 questa era l'ultima notizia grazie per averci scelto l'appuntamento e alla seconda edizione a 19 e 15 intanto a tutti voi più cordiale buon poveriggio l'evan a 19 e 15 a 20 e 15 Grazie a tutti